sharewood festival edizione 2013 siamo qui al parcheggio nord dello stadio ganeo questa sera in main stage i bunda bash con che presenteranno il loro disco diciamo il nuovo tour super hero allora da quel 1 del 2008 sono passati un po di anni mi è passata di acqua sotto i pochi 10 anni allora cioè io quando ho sentito 1 ho detto qui insomma non ci conoscevamo però la strada sarà stata lunga e sono usciti tre dischi da quel momento insomma cos'è cambiato da da 1 ma io direi che umanamente parlando non è cambiato niente nel senso che siamo rimaste sempre le stesse persone con lo stesso approccio alla musica la stessa visione lo stesso modo di vedere la musica soprattutto il contatto con la gente anzi non l'abbiamo perso perché a volte si perde subito il contatto della gente facendo un altro cd un altro cd e si avanza di livello mentre la gente è sempre vicina a noi noi siamo sempre vicini ai problemi della gente della prima cosa che cantiamo i problemi della gente è rimasta la stessa umiltà diciamo infatti quello sicuramente dal punto di vista musicale penso che questo disco sia proprio la rappresentazione dell'evoluzione musicale che è l'evoluzione artistica che ha caratterizzato bunda bash già i precedenti lavori erano abbastanza spinti a livello di sperimentazione però ancora non eravamo proprio settati al massimo invece penso che in questo disco che mi piace descrivere con la parola imprevedibile perché ci sono veramente tantissime influenze musicali ci sono tantissime sfaccettature della musica reggae che comunque rappresenta il fulcro del nostro lavoro ma che ha come dico sempre tanti piccoli generi satelliti intorno e credo che in questo disco in superheroes sia stato raggiunto proprio il massimo per noi senza livello proprio di sperimentazione musicale perché veramente ci sono delle corde che non abbiamo mai toccato tipo l'elettronica ci siamo buttati molto sull'elettronica cosa che non avevamo mai fatto e poi è andato così via da quello che ho potuto sentire ad ascoltare di bunda bash comunque sono sempre stati un gruppo di ricerca in evoluzione cioè non si sono fermati al reggae musica anche se quella è poi la radice la base principale però ho visto che c'è sempre stata da parte vostra una una grande ricerca e adesso mi state dicendo che si continua ad evolversi questa ricerca certo ecco chi sono questi superheroes ma non siamo noi innanzitutto sì non siamo noi in realtà però sai che siccome c'è sta domanda ce la stanno facendo sempre fondamentalmente c'è una dedica proprio all'interno del supporto fisico del cd e c'è scritto che dedichiamo il titolo del disco e quindi tutto il disco a tutte quelle persone che in questi tempi in italia che non sono sicuramente i tempi rosei non sono sicuramente i tempi tanto piacevoli insomma ci sono quelle persone che purtroppo sono un po più deboli di altre e non ce la fanno ci sono altri invece che come c'è scritto nel disco non hanno i raggi laser non hanno particolari poteri tipici dei supereroi però hanno una grande forza e un grande coraggio per continuare ad andare avanti ci riferiamo magari infatti i disagi a parte i disagi vengono lo stesso ad ascoltare musica e questo è il primo messaggio che bunda bash ci ha mandato un saluto a loro perché loro sono bunda bash non noi quindi sì e poi anche comunque sia gli operai gli operai che hanno perso la vita sul lavoro gli operai precari gli operai dell'ilva che è una questione che capisce ancora è risolta sì essendo pugliesi e salentini è una questione abbastanza spinosa e abbastanza importante per noi e poi ci includo perché no anche bunda bash un po perché noi siamo indipendenti quindi in questi periodi in cui la musica è praticamente dominata dalla grande discografia insomma che decide quello che la gente deve ascoltare non ci vogliono diciamo se se me lo concedi questo francesismo le palle quadrate per essere indipendenti o altri budi e farsi insomma fare tanti sacrifici non solo fisici non solo psicologici ma anche economici proprio pratici per continuare noi grazie a dio troviamo sempre la forza grazie come ha detto lui al supporto di chi ci segue a dieci anni per continuare a spingere sempre di più sì infatti vedevo che avete un'attività strepitosa cioè parlando del 2011 da giugno 2011 a gennaio 2013 avete realizzato 100 oltre 100 spettacoli per cui insomma penso che non sia non sia facile anche a livello fisico penso infatti e parlando ecco di contatto con la gente prima lo ricordavate avete avuto un'esperienza facendo un tour anche negli Stati Uniti come è stato il rapporto con la gente negli Stati Uniti come con la gente con la people the ragged music per lui facilissimo perché parla un inglese perfetto quindi per lui facilissimo per noi un po' meno che diciamo che scimmiottiamo un po' la lingua però gli americani sono molto disponibili anzi aperti al nostro genere musicale perché non possiamo dire che è uguale a loro il nostro reggae è un po' come dire è un po' salentino c'è un po' di terra nostra quindi è stato strano salire sul palco all'inizio e poi vedere loro che ballavano era piacevole perché ci stavano dentro del tutto quindi noi ci siamo fatti prendere abbastanza anzi poi abbiamo fatto anche il video e da lì abbiamo anche conosciuto qualcuno in mezzo alla strada lo fermavamo di Bundabash, di Bundabash e quindi disponibili tutti poi direi che la cosa più interessante che dico sempre è stata il fatto che comunque abbiamo avuto modo di notare quanto sia diverso il sistema musicale in America rispetto a quello italiano proprio la ricerca del talento in America è su un altro livello cioè mentre in America se tu sei un artista come dico io da cameretta nel senso che non sei ancora un artista emergente però hai magari i numeri hai comunque sia una grande passione un grande talento fai della bella musica potrai sicuramente arrivare a bussare alle porte di un grosso produttore che ti darà ascolto cosa che non succede assolutamente in Italia perché in Italia c'è il sistema del clientelismo musicale che io lo chiamo per cui tu devi conoscere qualcuno che poi ti presenterà a quel qualcun altro che a sua volta ti porterà da quindi è un sistema diverso ma anche proprio nel nucleo familiare americano se c'è un figlio che dice io non voglio fare l'università voglio andare in un college musicale perché voglio diventare un musicista la famiglia non gli dice ma che dice la musica non è una cosa seria cioè loro proprio spingono i ragazzi anche a intraprendere la carriera musicale se lo vogliono un esempio clamoroso sono stati Queen di Freddie Mercury che sono proprio conosciuti e formati in uno di questi bellissimi college musicali americani che hanno dato la vita poi a tanti talenti quindi è stato molto costruttivo vedere purtroppo quanto il sistema americano sia proprio nettamente superiore siamo andati anche a fare una conferenza in una scuola di Miami a spiegare anche insieme a mamma maria a spiegare un po' di musica reggae come la vediamo noi insomma è stato semplicissimo perché loro anzitutto parlavano italiano cioè riuscivano a parlare italiano perché studiavano anche italiano lì dentro e riuscivano a parlarlo anche come noi quindi riuscivamo a comunicare bene e ci capivamo loro hanno delle robe differenti il reggae per loro è cultura da tanti anni noi magari lo stiamo lo stiamo innalzando e evolvendo adesso però loro si sono evoluti già da molti anni noi come dire in Italia stiamo sempre 5-10 anni indietro quindi è sempre così ancora adesso avendo le strumentazioni però siamo sempre un po' indietro però dai ci difendiamo bene ci difendiamo bene da 20 anni a questa parte ci difendiamo ok allora beh un'ultima cosa e poi vi libero per andarvi a preparare per questa sera per la serata di questa sera al festival di Radio Sherwood come dicevo prima edizione 2013 con Bundabash quanto ha inciso questo tour negli Stati Uniti nel vostro nuovo disco e l'esperienza anche diciamo dell'MTV Days che insomma penso non sia penso sia stata una cosa forte anche per voi sicuramente direi che è stato più formativo e più importante andare in America che suonare agli MTV Days perché comunque sia è stata una bellissima esperienza però quando suona in Italia hai comunque sia il tuo pubblico hai i tuoi ascoltatori eccetera invece in America è stata proprio per noi oltre che un'esperienza bellissima perché penso che non a tutti i capiti di andare a suonare negli Stati Uniti poi noi ci siamo andati salendo sul palco con i Negrita con i Subsonic con Mandarino quindi cioè è stato veramente un onore per noi e poi insomma abbiamo provato a gestire un pubblico che viveva a migliaia di chilometri da casa nostra e che comunque era un pubblico diverso abituato a cose diverse e quindi è stato molto importante questa cosa per noi tra l'altro ci tenevo a dire che parecchi dicono che il fatto che non usiamo la lingua italiana per cantare sia un limite in realtà quando siamo stati in America è stato proprio un vantaggio per noi perché gli italiani che c'erano capivano Paolo gli americani capivano me quindi c'è stata continuità durante lo spettacolo posso dire che nel nuovo disco l'America in generale ha influito un sacco ma perché comunque sia siamo molto influenzati dal suono americano ascoltiamo un sacco di musica americana poi andarci è stato come ti ho detto prima molto costruttivo quindi abbiamo tratto sempre andare dall'altra parte del mondo ti lascia per forza qualcosa come arrivi senti un altro profumo senti altre sonorità che purtroppo dico purtroppo perché ti rimangono nell'orecchio e poi non te le togli più e automaticamente le metti nella tua musica quindi un po' di America c'è stato anche nel nostro CD perché l'esperienza è quella che insegna benissimo ringraziamo i Bundabash grazie a voi li lasciamo per l'esibizione di questa sera e insomma vedremo spaccare i Bundabash speriamo sul main stage poi grazie mille ciao grazie a voi